di guardare all'interesse dei cittadini, noi non serviamo al rancore e quindi diciamo a voi votateci perché noi possiamo essere l'unico voto utile per un vero governo di centrosinistra e diciamo al PD dovrai accettare che noi prenderemo più voti di molti e avere bisogno di noi per fare un governo di centrosinistra vero senza molti grazie Antonio e poi qui c'è Nando Bonessio che è una... Nando Bonessio, grazie Antonio, io l'applauso diciamo di sostegno ad Antonio per questi continui attacchi devo dire indecenti a cui sono stati e che ogni giorno gli vengono rivolti come se fosse il problema dell'Italia Grazie a tutti